Obiettivo principale, guardare al sociale. Per realizzarlo, un gemellaggio che si rinnova da 5 anni, che lega la città della fortuna a Roma. Protagonisti, l'ente carnevalesca e l'associazione Argos Forze di Polizia Not For Profit. Domenica mattina, mentre Viale Gramsci era gremito per la prima sfilata del Carnevale dei Bambini, in Comune, presso la Sala della Concordia, si è svolta la cerimonia in cui è stato rinnovato un importante accordo tra una delegazione dell'Associazione Romana, l'amministrazione comunale e la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli. Un sudelizio, un rapporto di collaborazione con gli stessi ideali di sicurezza e divertimento che unisce il Carnevale fanese a quello della città romana, denominato una grassa domenica festa del Carnevale delle Forze di Polizia. Rinnovato stamattina un importante gemellaggio tra la Carnevalesca e Argos, di che cosa si tratta? Beh, premesso che le amicizie sono una cosa seria, noi oggi abbiamo appunto rinnovato questo patto d'amicizie, questo gemellaggio tra Argos Forze di Polizia e il Carnevale di Fano e comunque con la città di Fano. Insomma, schierate tante divise, è una bella emozione, noi ci crediamo tanto alle amicizie, quindi ogni anno rinnoveremo questo con loro e anche con gli altri nostri partner e amici nel mondo. Un'amicizia che va avanti da quanti anni? E ormai sono cinque anni. Argos Forze di Polizia è un'associazione di carattere internazionale, composta da appartenenti alle forze dell'ordine e anche da simpatizzanti di buona condotta. Abbiamo costituito ormai da 15 anni questa organizzazione associativa per intraprendere ormai da diversi anni il percorso delle buone azioni, ossia un gruppo di volenterosi appartenenti alle forze di polizia liberi dal servizio per fare attività dedicate al prossimo, quindi attività tutte al volontariato, attività all'aggregazione culturale, alla formazione del personale e a stimolare i cittadini ad interagire con le forze dell'ordine. Domenica 12 febbraio si svolgerà la 14esima Kermess delle Forze di Polizia di Argos, incentrata sui temi dell'arte e della scienza. Tra le novità di quest'anno, il gemellaggio con il Carnevale dei Bambini di Pinocchio e i Comici Camici, l'associazione che coinvolge i clown dottori allo scopo di aiutare i bambini in gravi difficoltà. Tra i partner di Argos, nel percorso delle buone azioni, la Guardia Nazionale Ambientale delle Marche, guidata dal professor Raggi, presenti all'incontro in comune. Siamo qua a Fano con la massima convinzione, noi seguiamo l'Argos da sempre praticamente e siamo stati presenti anche nelle precedenti edizioni, ma con la massima convinzione al Carnevale di Fano perché dovete sapere, e non so se lo sapete, che il Carnevale di Fano è un carnevale ecosostenibile. Quindi è il primo atto concreto di un'amministrazione comunale, di un'associazione come l'Ente della Carnevalesca, che hanno inteso adottare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente reale, mediante l'utilizzo, la sponsorizzazione e l'adozione di prodotti compostabili, quindi tutto quello che viene lanciato, stelle, coriandoli, eccetera, è tutto compostabile, persino le bombolette di vernice sono vernici particolari compostabili. Al termine della conferenza, dopo la firma, è avvenuto il rituale scambio di doni e al pomeriggio la tradizionale sfilata in Viale Gramsci, assieme ai carri e alle mascherate.